Schiaccia con la mano destra, tira su, passo, ferma lì, a questo punto cosa fai? Vai subito col peso sulla gamba destra, avanti con la faccia, avanti con la faccia e col piano sulla gamba destra. La mano, questa mano è già pronta per spingere, vai, spingi e stop il peso subito sulla gamba che hai portato avanti.